Totti ha confermato l'appuntamento del Brancaccio per avvenire alle vicende di Forza Italia. Lei parteciperà a questa iniziativa? Credo proprio che parteciperò. Sono peraltro molto felice del fatto che il Presidente Berlusconi abbia trovato un meccanismo di sintesi che abbia permesso a tutte le voci di Forza Italia di rimanere all'interno del contesto del mio partito. Io ero tra quelli che erano definiti un po' i pontieri arrivando da un'esperienza di parlamentare europeo avendo un rapporto anche stretto col Presidente Tajani ed essendo non solo amico ma un estimatore del Presidente Totti. Per cui sono felice che questa sintesi sia stata da ieri impostata e credo che il 6 luglio potrà essere un momento in cui si potrà tranquillamente riflettere di quello che è il futuro di un grande partito che vuole continuare a essere un partito grande.